E oggi per la nostra rubrica delle parole desuete faremo una variazione sul tema perché voglio parlarvi di una locuzione latina UBIMAYOR MINOR CESSAT che significa che nel momento in cui c'è una persona, una cosa di grande importanza tutto il resto perde di rilevanza mi sembra molto importante ricordarla proprio in questo momento in cui c'è il coronavirus davanti alla salute nostra e dei nostri cari non c'è nulla di più importante quindi vi prego se potete restate a casa